ok amici questa è la fine della nuova avventura del blogger sono venuto a israele grazie all'invito di un mio amico giornalista aviad di fullguts ciao I discovered a place where there are a lot of funny people and you are the big grande maestro thank you again for this enduro is a connection between the people Sababa Sababa and it was really nice to have you here ciao se lo sai lo sai ma se non lo sai te lo fa vedere il blogger now we are in Judea desert which is east of Jerusalem and we're going down to the direction of the Dead Sea which is the lowest place on earth it's minus 430 below sea level and we are having fun with the natural enduro playground which is the best so 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 questa nuova avventura per enduro blogger in offroad in compagnia di Rian e aviad adesso ci prepariamo un bel caffè il caffè è pronto la prima volta il fondetop va bene ST'ALLjwalondo un bel c…. un bel c'è la prima volta il ruogg bula un bel c'è il… ihmumma cheffè trevo un bel c'è il trugà tratare la prima volta in in modo un bel c'è il trugà l'cadr il architecture questo è il mio amico va bene tutto ma anche la grandine nel deserto va bene tutto ma anche la grandine nel deserto mi sembra un po così non Grazie a tutti. Ci fanno spingere qua. Grazie a tutti.